Ciao ragazzi, allora oggi sono un po' distrutto per il fatto che sono reduce di un convegno di tre giorni che sono andato a fare per migliorare un po' le mie conoscenze di crescita personale, la possibilità di realizzare dei progetti non solo in Italia, anche all'estero, perché è mia ambizione poter diffondere questa mia cultura sui cani da guardia e alcuni principi di cinofilia naturale, almeno in Europa. Ed è ovvio che dopo tre giorni full immersion, e adesso mi ritrovo qua con i miei cagnoni, non è che sono proprio così in forma, perché lì si sta dalla mattina alla sera, sempre chiuse all'interno di un grande padiglione, per cercare di acquisire più notizie possibili, però Scorpion, lui di tutte queste notizie, non è minimamente interessato, perché dice adesso è meglio che ti dai da fare, perché lui vorrei mangiare la mia carne di tutte le mattine, e presto adesso soddisferemo anche lui. Bene, e cosa vi posso dire di questa mia esperienza, che ha molto a che vedere col filmato di oggi, perché il filmato di oggi ve lo dedico un po' a quella che è poi la carriera del consulente cinofilo per cani da guardia, che è questa figura che io formerò domenica 26 maggio qui da me. Allora, ieri sono andato per far qualcosa per la mia carriera, perché se mi ricordo quando ho fatto la prima cucciolata con questi cani, togliendo due cuccioli che praticamente li avevano cercati gli altri, perché in una ricerca di questa razza mi ricordo benissimo quando poi ogni tanto partivo, al sabato andavo a cercare persone che volessero in qualche modo adottarli gratuitamente questi cani. Altri due vennero dei pastori a cercarli, ma la difficoltà di vendere questi soggetti non fu poca, guardate, per chi non è inserito nel giro dei cani da guardia, per chi non è qualcuno appunto nella razza vendere cuccioli di una razza così sconosciuta, è veramente molto dura, per non dire impossibile. Infatti molte persone ci provano a livello di privati, perché magari hanno gli amici che hanno cani di altre razze, e dopo ne escono molto demoralizzati, perché è una razza che bisogna conoscere in modo molto dettagliato e bisogna insomma produrre garanzie di risultati. Infatti quando mi guardo indietro, se penso che oggi, ormai da parecchi anni, io non vendo più i miei cani a tutti, vendo i miei cani solo a tutti coloro che ritengo idonei all'adozione di un soggetto da guardia, di quelli che seleziono io. Però se mi guardo indietro è ovvio che di carriera ne ho fatta, perché sono partito a dover regalare i cani che nessuno li voleva, a venderli oggi, insomma, per quello che invece valgono realmente. La cultura del cani da guardia in Europa si sta espandendo molto, tant'è che in questo convegno ho fatto alcune coach private con persone che sono specializzate a sviluppare i business in Europa. Tra l'altro ho fatto un investimento pazzesco, e per pazzesco dico alcune decine di migliaia di euro, ho firmato un contratto per un impegno finanziario molto alto, che saranno questi coach, questi mentori che mi accompagneranno in questo percorso di traduzione di tutti i libri, delle mie teorie, dei video filmati, dello sviluppo, insomma, prima nei paesi vicino all'Italia, poi gli altri, insomma, organizzazione di eventi, eccetera, eccetera. Ecco, che cosa si è parlato per tre giorni? Che nella new economy, nel mondo che viviamo oggi, non ha più nessun senso provare a fare le cose da solo. Ecco perché il settore dell'informazione sta avendo un valore aggiunto molto alto. Oggi non ha senso provare ad andare all'estero da soli, senza qualcuno che ti dica che abbia già fatto questa cosa, che abbia esperienza, quali movimenti devi fare. E intanto che queste persone parlavano, questi esperti di aziende di sviluppo a livello internazionale, pensavo di poco senso che ha a fare un percorso come ho fatto io, che per poter capire chi era l'Asia centrale, sono andato dieci volte nei deserti, sulle montagne, nelle steppe dell'Asia centrale, a cercarmi, spendendo soldi a non finire, i pastori, tra l'altro non tutti, quelli che erano disponibili a svelarmi qualche piccolo particolare, che poi venendo a casa, provando, sono un po' riuscito a fare la mia teoria, che è quella che oggi ho intenzione di sviluppare. Così come non ha senso provare ad individuare il cane giusto, perdere così tanto tempo, denaro, avere problemi di moralizzazione, oppure quello di cercare in qualche modo, di allevarlo in base alla propria mentalità, senza aver fatto delle esperienze, senza rendersi conto che tutto ciò che noi ragioniamo, tutto ciò che pensiamo che sia giusto per il cane da guardia, è quasi sempre completamente sbagliato. E quando le persone poi vengono al corso, perché non si staccano più da me, perché sono quelli che poi sono i primi a dover contestare persone che magari commentano in modo polemico alle mie affermazioni, sono quelli che quando partecipo nei gruppi, dopo fanno un po' le mie veci, io non ho mai risposto insomma ai commenti. ieri parlavano di una frase veramente molto simpatica, che diceva che i leoni non perdono sonno per le considerazioni delle pecore, e di conseguenza io ho sempre avuto dei miei obiettivi ben precisi, che chi voleva seguirli l'ha fatto, eccetera, eccetera, chi voleva contestarlo o non voleva seguirlo, era altrettanto libero, ed è continuo ad essere altrettanto libero per poterlo fare. Tra l'altro questo mio impegno, sia finanziario, sia proprio di tante volte che mi dovrò mettere in aula per imparare qualcosa di nuovo, credo che non mi consentirà di svolgere questo mio undicesimo viaggio in Asia centrale, volevo andare in Mongolia interna, io la Mongolia l'ho già visitata, mi ero molto interessato a vedere la parte cinese, e credo di non portercela a fare, perché proprio in questo periodo, dove i pastori sono fuori al pascolo con i loro cani, che sarebbe maggio, sbarra giugno, sarà un periodo molto intenso per questo mio nuovo progetto, sviluppare questa mia idea di diffondere in Europa la mia cinofilia, e quindi uno dei sacrifici, oltre a quello economico, sarà quello che purtroppo credo di dover saltare questo viaggio, però la vita è fatta di scelte, è fatta di decisioni che uno deve prendere, ma specialmente è fatta di precedenze, cioè poter imparare altre cose per me è assolutamente importante, ma in questo momento è molto più importante riuscire a farmi una formazione su come sviluppare, non solo in Italia, ma anche all'estero, questo concetto del cane a guardia, che tra l'altro è già in grande sviluppo, poiché poter avere un custode, un guardiano che non ha problemi di permessi, che non ha problemi di ferie, che non ha problemi di malattia, che non ha problemi familiari, che non ha problemi, che rimane, diciamo, o meglio, una coppia di guardiani che rimangono all'interno della proprietà, che non creano tutti i problemi, che necessariamente creerebbero due guardiani, al di là del costo dell'investimento, se fossero persone fisiche, è un concetto che interessa molto a tutte le persone che hanno una casa con giardino e che vogliono mettersi al sicuro. È ovvio che ormai ho superato solo questa settimana, ho respinto cinque richieste di cane, o meglio la settimana successiva, perché a chi non vuole fare una formazione, a chi non vuole fare un percorso, non vendo più i miei cani, ma all'estero la formazione, noi veramente siamo gli ultimi al mondo, è un concetto ormai molto più diffuso. E dopo aver fatto questa lunga introduzione, che tra l'altro vorrebbe finire dicendo, voi vi ricordate quando a un certo punto dissi che non avrei più venduto i miei cani se non a un determinato prezzo? Ecco, poi questo è diventato realtà. Poi a un certo punto tutte le persone credevano che venire al corso base fosse una cosa che potessero sempre rimandare al prossimo anno. E poi io ho tolto il corso base, adesso obbligo le persone, se vogliono seguirmi, a fare la formazione attraverso il videocorso base e poi fare la specializzazione. Stessa cosa quando abbiamo fatto il corso di Cinofilia naturale a Torino, presso il Golf Club, ho detto, questo sarà per voi un evento storico, perché non ce ne saranno altri. La gente continua a chiedere, ma non ce ne saranno altri. Adesso appena potrò, metterò anche lì su dei videocorsi e anche lì mi organizzerò diversamente. Ideo con questo per dirci che questa occasione del 26 maggio rimarrà un po' nella storia del mio sviluppo della Cinofilia, perché sarà sicuramente l'ultima che io farò a casa mia, ma specialmente sarà l'ultima che farò a un prezzo così basso, perché una delle cose che mi hanno contestato tutti i coach che ho incontrato, con il quale adesso io inizierò questo programma di sviluppo aziendale è il prezzo. Cioè l'informazione a livello europeo costa almeno 10 volte ciò che noi la vendiamo in Italia. Ecco, quindi dovendosi sviluppare a livello europeo, i prezzi della formazione hanno dei costi molto più elevati, perché in realtà le persone che vogliono ottenere successo in qualsiasi cosa oggi non possono permettersi più di provare, hanno bisogno di avere un mentor, e hanno bisogno di uno che abbia già fatto prima, abbia già perso tempo, abbia già perso denaro, abbia già incontrato tutte le difficoltà per poterle, pare, evitare a quelli che partecipano ai corsi di formazione. Col cane alla guardia è veramente importantissimo, intanto non capire quello che è, diciamo, il cane giusto che può far andare bene, scusate, che può andare bene per la famiglia diventa un disastro di tutti i tipi, affettivo, piuttosto che funzionale, al di là dello spreco di denaro, di tempo, eccetera, ma sbagliare la gestione può diventare in un certo qual modo, invece di una bellissima esperienza come lo è per me e per molti clienti, un'esperienza drammatica con quelle conoscenze, con quelle conseguenze che voi conoscete. Bene, concludendo questa mia introduzione, vorrei venire un po' a quello che è il tema, cioè la carriera che può fare il consulente cinofilo per cani da guardia. Allora, per cosa riguarda proprio nei dettagli queste sono due, una delle due qualifiche che si prendono prima di diventare istruttore cinofilo per cani da guardia. Questa di consulente cinofilo per cani da guardia è in autunno che credo che anche quella in autunno sarà l'ultima che io farò qua con determinati requisiti. Ecco, queste due insieme poi con un'esperienza e un contatto con la federazione che per adesso è durato due anni forse durerà anche un po' di più si riesce poi ad avere l'esperienza necessaria per poter diventare istruttori cinofili per cani da guardia. Ma questa è la semplice carriera che si fa all'interno della nostra federazione ma la vera carriera individuale come professionisti è quello di rappresentare poi un punto di riferimento in una disciplina ancora così sconosciuta anche ai professionisti delle altre diciamo attività cinofile ma in così grande espansione cioè il cane che all'interno del giardino ha un costo molto limitato creando così pochi problemi può occuparsi della protezione familiare è un discorso in continua scesa non solamente in Italia ma in tutta Europa invece infatti questo ciò che mi motiva a sviluppare la mia consulenza è che mi arrivano richieste tutti i giorni dall'estero che per tutta una serie di motivi non sono in grado di soddisfare ho già venduto alcuni cani in Francia ne ho venduti in Spagna ne ho venduti in Austria però il problema è un po' la lingua che è una cosa che mi devo organizzare per affrontare questa cosa ma l'assistenza quindi devo prima andare a come dire formare come ho fatto in Italia dei professionisti che bisogna iniziare come consulenti cinofili per cani da guardia anche all'estero quindi dovrò avere delle figure all'estero per poter eventualmente passare alla vendita anche se la vendita non sarà più una cosa che io farò molto tempo insomma ci sono delle medie probabilità che con la fine di quest'anno ridurrò molto l'aspetto vendita perché non è tanto la vendita ma quanto l'assistenza dopo che mi porta via molto tempo che potrei impiegare in modo molto più intenso anche più redditizio a sviluppare in tutta Europa questa mia consulenza e lo sviluppo mi richiederà molto impegno però è una cosa che prima di come dire chiudere la mia vita con questa esperienza con i cani avrei piacere di fare bene di conseguenza rinnovandovi l'appello di partecipare il 26 vi dico che la carriera che voi potrete fare diventando consulenti cinofili cani da guardia se voi siete dei cinofili o se vi piacciono i cani potrebbe essere un vero investimento per il futuro perché il cane da guardia è un animale completamente diverso da tutti gli altri va gestito in un modo completamente diverso non importa se siete stati campioni di qualsiasi disciplina sportiva con altri cani ma quando voi vi troverete a dover gestire a dover crescere un cane da guardia tutto quello che voi pensate tutto quello che immaginate ecco non andrà bene per crescere con questo animale così particolare che non può essere addestrato alla sua mansione ma deve già nascere con queste caratteristiche e noi abbiamo solo il compito di non rovinargliele e di riuscire a convivere bene con il suo temperamento e finalizzare quindi quelli che sono gli scopi che noi ci eravamo prefissati ok per oggi è tutto vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e vi auguro buona settimana ciao ragazzi a presto a presto a presto